Adesso passiamo a un'altra notizia perché opere d'arte e manifestazioni spontanee per ricordare Gigi Riva. Vediamo il servizio di Antonello Lai. Che Gigi Riva abbia lasciato un vuoto incolmabile non l'affermano solo i familiari, ma ogni sardo conosce quel timido ragazzo magrolino e triste che negli anni 60 aveva lasciato la sua legiuno per venire nella sardina sperduta dal calcio a un pallone. Diventando poi messia del football e soprattutto figlio e rappresentante di un'isola che vedeva nelle sue memorabili gesta sportive il riscatto di un intero popolo. E lo possiamo vedere anche da queste immagini registrate dal glorioso Campo Rai proprio di fronte alla cappella di famiglia che ne custodisce le sue spuglie. Quasi un intero viale dedicato a Rombo di Tuono con tanto di scritta, Viale Gigi Riva. Il suo piccolo museo fatto di foto e cimeli è nato spontaneamente. Sono stati i suoi tifosi, orfani del maestro dello sport, ad allestirlo con tanto di numero civico che corrisponde a questo museo a cielo aperto. E guarda caso il numero civico, pensate proprio l'undici. Che idea geniale che si sostituisce alla lentezza del comune dello Stato che non ha bisogno di anni per dare l'ok per dedicare una via alle celebilità. E allora chi fa da se fa per tre? E me che non si dica l'ennesimo miracolo del Gigi nazionale. Un grande uomo che ha preso sempre decisioni inappellabili e forti. Delle rinunce a tornare sui campi quando non era più al massimo della forma, alla protesta contro i politici romani che salivano non sul carro, ma più semplicemente sul pullman che faceva il bagno di folla della città per non ronarsi di una vittoria che non era da loro. Ebbene Riva, accompagnatore della nazionale, non ci pensò molto e scese dal pullman. Come probabilmente ha scelto lui il momento di uscire di scena da questa vita che gli aveva già tributato gli onori che solo ad una divinità si riservano. Sì, la divinità del profilo greco.